Buongiorno ragazzi, oggi, nell'episodio di oggi, siamo al matrimonio... No, non lo so. Dove siamo? Dove siamo? Siamo in una chiesa rotonda. Quale è una chiesa? È una chiesa molto rotonda. Siamo al matrimonio di un altro amico. Oggi ci ingozziamo, mangiamo, beviamo, tu ciocchiamo... Tutto, tutto. Non li devo lavorare, come sei? Miriam. Allora, prospettiva di oggi. Allora, siccome qualcuno si viene, si viene, si viene, si fa felice. Un'esperienza. Com'è andata? È esperienzata. Pam, pam, non guidi tu. No, no, no. Ragazzi, si va, si va. Si vola. Si mangia. Si vola, si mangia. Nemo. Ma cosa sta facendo? Si sta mettendo la cintura da dietro? La bolsa, e dove sta? Rai se non sta porai? Raga, ho due telecamere su me. Capisco tutto, però... Andiamo a mangiare, andiamo a mangiare. Ciao belli, come state? C'è una villa fantastica, vediamo se riesco a fare il trick. Enzo, che ci dici di questa villona? Guarda, io sto morendo di fame, quindi villa non villa, voglio mangiare. Vai, andiamo a mangiare. Ciao, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Nella villetta, così? Villetta. Nella villetta. Bene, allora tu sarai l'intruso. No, io sono finlandese, in realtà. Tu sei l'intruso. Ciao. Devi scoprire il tuo tavolino. Oddio, siamo in Nigeria. Buongiorno, sono bellissimi amici. Buongiorno, per sposarmi e per la festa, e per mangiare. Per la festa. Anzi, si spinge, si spinge, sempre più pressanti. Guarda qua, cin cin. Uno, due, e lui. Cin cin, cin cin. Cheers. Com'è che dite in spagnolo, cin cin? Cin cin uguale. Cin cin. A posto. Siamo qua, siamo qua in una villetta in zona dove siamo, verso Vicenza. E ci troviamo con Nicola Quattrone, carissimo, carissimo. Ciao, adesso io smetto di vloggare, usiamo solo il tuo. Esatto. Allora, tanta roba, devo dire. Allora, la prospettiva di oggi è bere più calici possibile, devo dire. Ciao, io sono Nico e questo è il primo calice della giornata. Ciao, sono Lorenzo e questo penso sia il sesto o il sesto. Poi, i primi piatti, il rotolino di crepella con porcini, prosciutto crudo berico, croccante e rucola, eh sì, rucola e ricotta di bufala. Il mio fastidio. Il mio fastidio. Mamma mia. Il mio fastidio. Ok, allora signori, gentilmente. Il mio fastidio. Il mio fastidio. Il mio fastidio. Cazzi, le bomboniere serie si fanno con il limoncello qua, con il limoncello. Per la vedere a tutti tra le carte aerea, mi raccomando. Vai. Non dite che carta aerea. La scampo ancora prima che io ti parlassi. Nooo. Perché gli stifero, la carta aerea. Allora facciamo un cincin. Ferraris for life. Ferraris for life. Ferraris for life. Un'ITN for life. Vabbè, Verona... Io non vedo l'ora di mangiare la tagliata, ragazzi. Io, anch'io, sono un carnivoro. Beh, devo dire che i miei occhiettini ho il tartufino. I miei occhiettini erano tanta roba. Tanta roba. Il bistro lo sei fatto? Oh, il tartufo. Tartufo, posso dire, è tanta roba, cazzo. Cioè, io vorrei tipo andare in giro con un cane da cazzo di tartufo e prenderlo. Tipo, sai le persone che prendono il cane, arrivano lì e trovano quel tartufo gigante che dici cazzo. Ciao, ciao, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ecco questa telecamera che mi ha ripreso. Molto, molto, uh, uh, madonna. Ecco, a posto, signori. È stato ripreso. Signori, perché anche io sto facendo un vlog. E già, hai già scaricato il tuo accionale. No, è al 30%, ma so già che non durerà. Chi tra i due è più di stato? Ehm, come si dice? Roppi i padri. Eh, noi, ho visto i matrimoni finire per molto meno. Vediamo chi si sposa qua. Vediamo un po' chi si sposa. Dai, inquadrapegni. Chi ottiene? Ehm, è lei! È lei! Chi è? Non lo neanche dice chi è. Fatto, l'hai preso? No, no. Niente. Sfiazze. Con illusione! Anche lui! Ma siamo in un... Sono nel tuo vlog? Sì. E tu sei nel mio vlog? Oh! E la nica era in prima fila, eh. La nica era in prima fila, eh. La nica era in prima fila. Io ho visto. L'ho visto. Niente, niente. Non l'hai preso, però... Non l'hai preso, non l'hai acciuffato. Ho proprio provato, devo dire. Mamma mia. Con il bicchiere. Con il bicchiere in mano. Cercavi di ricarlo con il bicchiere? Certo. Tirava il bicchiere. Non l'hai preso? Quasi, ma ho detto non hai intenzione di spaccare tutto e di... Cioè, non c'è tutto, ragazzi. Penso che abbiano appena fatto il ballo di coppia. Lì vedo delle candele. Bravi! È finito tutto. Bravissimi! Ehi! Non ci si può credere! Mamma mia mia! Mamma mia! Non ho mai visto qualcosa di simile! Guarda! Guarda! Pesanti! Ma soprattutto, Giorgio e Irene, che figata! Che figata, che figata! Ragazzi, ora ci buttiamo, ci buttiamo! Ora, mo' sono cazzi! Ma sono già... Sono bellissimo! Cioè, io mi sembra... Una mer... No, dai, è bellissimo! Allora, finora il mio matrimonio è più... Cioè, è più divertente, ma come sarà il più divertente? I fuochi d'artificio sono in quelli del sud, li ho visti. E tu cosa pensi? Io penso che sono completamente scontato! Sì, veramente inquietante anche il bel... Scusa! Sì, io vengo qua, però veramente... Cosa pensi? All'esserino io dico che sono veramente rimasto molto stupido... E' basico! Sono veramente euforico! E' euforico! E' basico! Dovete entrare in questo schema che ho trovato l'altro giorno online! Ragazzi, mi date 50 euro, ve ne do 100! Hai vinto un iPhone! Di meglio! Vi do una serie di prodotti che dopo date ai vostri amici! Il caffè, il caffè! No, se vendete, poi salite nella graduatoria! E se invitate a bici, guadagnate ancora di più! Eh sì, perché dopo date i prodotti a loro! Ma non è punzi! Mi raccomando! Come ti senti, Giorgio? Benissimo, è pronto per il ballo! Bene, bene, bene! Come si dice in spagnolo? Come ti senti? Come ti senti? Bien, bien, molto bene! Bien, bien, bien! Muy felice, molto contenta! Emozionata! Sì, sì, troppo! Mastra! Non lo so! Embarazzata? No! No, no, per niente! Per niente! No, no, per niente! Mamma mia! Dove ne pensi? Ti piace? È tutto! Pazzesca! Pazzesco! Pazzesco! Baccio! 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 Allora, tu sei Leonardo, questo è il tuo secondo drink, immagino! No, è il mio primo! È il tuo primo! Allora, se contiamo anche il vino, usciamo i calici e il tigene! Cos'è quella roba? Ah, fino a 120, parla di se sposta la testa, muoviti! Nicola, Nico, chiamate! Nicola, quattrone, mi raccomando! Oh, guardale, Muz, guardale, guardale! Mamma mia, ragazzi! Qua si balla! Qua si balla! Stai giudicando a te, stai giudicando! No, sto pensando che se sta ballando il quattro vuol dire che è ubriaco! Eh, eh, oh! Che è una donna! Che è una donna! Eh, eh, oh! Yeah! Ehi, oh, oh, guardatelo! Molto bene, sono divertiti! È stato bello vedersi di nuovo! È soddisfatto! Ogni tanto bisogna... Che figata che figata! Dobbiamo sposarci più spesso! Dobbiamo sposarci e divorziarci tra di noi e continuare così! Oh, che si sposa al prossimo, raga! Il prossimo chi è? Ho visto Giorgio Nudo stasera! Ti è piaciuto? Tantissimo! Tantissimo! Allora, ti è piaciuta la serata? Sì, poi andate nel mio vlog e dite se è meglio il mio ufo! Il preferito! Ho visto anch'io Giorgio Nudo stasera! Ti è piaciuto? Tantissimo! Positivo, positivo! Io non l'ho visto Nudo! Mi raccomando, ricordatevi, mettete mi piace ogni episodio alle 11 della mattina nel mio canale! Raga, non è cambiato una virgola! No, proprio lo stesso! Lo stesso, lo stesso, lo stesso! Numerosi! Sempre lui, sempre lui! Il prossimo episodio a Roma! Sei tossico! Oh, raga, quando volete a Roma! Quando volete a Roma venite a trovarmi! Già, di tutto! Poi Milano! E poi Bruxelles! Vabbè, dai! Una visitina! Una visitina la farei! Una visitina la farei! Visitina! E te dove cazzo sei? L'importante è non cappare! Essere sempre real! Pog! I giovani parlano così! Pog, ok! Parlami del tuo riz! Com'è il drip? Com'è il drip qua? Il maupo! Tu cappi! Io non cappo, ragazzi! Ma si che cappo! Ma ehi! Io dico che è ok! Io non vedo l'ora di tornare! Voglio ritornare! Eh! Eh! Addio! Addio!